manni l'amore attacchiati la roba tua crema bravo bravo 10 anni gli anni che ah qual è il tuo preferito? la grey area si chiama ah sì sì ho sentito anche io vorrei una roba che sia un po' allucinogena ah ah e che ti ha detto era un vecchio Tu ricordi il nome? Tu che hai fatto il corso di attore Facciamo un cambio scena rispetto all'altra volta Sembri come Baggio perché la seconda era molto più spenta Poi se vuoi te le faccio vedere La prima era uno spettacolo, una volta spontanea La seconda un po' forzata Ma cosa? Quella storia lì che abbiamo fatto per la promozione No, il video della promozione lì della nazionale Seguiti anche tu, la tp E' l'ultimo E' l'ultimo E' l'ultimo E' l'ultimo Ela qui Aspetta, e' l'aspetta E' che la seconda se avevi gasato C'è la seconda forza E' un'altra 400 Gioca E' non mai Anmail Ari, are, are Vai Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. 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 , a tutti. , grazie a tutti. , 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 a tutti.